Ciao dolcezze, impacchettiamo qualche regalo in ASMR, ok? Suoni della carta, della plastica, le forbici, eccetera, anche se non sono molto capace a impacchettare, spero che vi faccia piacere lo stesso. Questo video l'ho già fatto anche anni fa e quest'anno lo faccio di nuovo, ok? Iniziamo. Appoggio il microfono e facciamo qualche suono. Spero che si senta bene, poi lo riascolterò. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.